Come anticipato nella riunione dello scorso 4 agosto, il CIP ha approvato definitivamente il finanziamento per la realizzazione della prima tratta del terzo megalotto della strada statale 106 Onica da Sibari a Roseto Capospurico. La scelta più significativa ed importante dell'odierna seduta del CIP è l'approvazione del progetto definitivo dei primi 18 km del primo lotto del macrolotto 3 della SS 106 e la definizione del finanziamento necessario per il completamento dell'intero intervento e quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio Matteo Renzi nel corso della riunione del CIP illustrando il punto relativo alla strada statale 106. Rispettiamo così, ha aggiunto sempre Renzi, rivolgendosi al presidente dell'Aggiunta regionale Mario Oliverio presente alla seduta, un impegno assunto nei confronti della Calabria facendo un concreto passo avanti nella realizzazione di una struttura strategica per il Paese. Il governatore Oliverio ha dato atto al presidente Renzi e al ministro del Rio di aver posto fine ad una telenovela che durava dal 2007. Oggi, ha detto Oliverio, si apre la fase della realizzazione di una importante infrastruttura che collega il corridoio adriatico con l'A3 e rende la Calabria più accessibile. Un'opera importante senza dubbio ma per completarla definitivamente bisognerà procedere ad una nuova istruttoria del progetto definitivo.